Ma cosa ci fanno qui dei criceti con del formaggio in bocca? Ehi, dove vai? No, dove scappate? Ma cosa ci fate lì in quella ruota? Ma che cosa fanno? Cosa? Ma cosa stanno combinando questi criceti? Sembrano divertirsi! Ma... Oh, uno è volato via! Oh no, un altro, un altro! Ehi, fermati! Ma questi criceti stanno per affrontare una gara! Lì c'è il percorso! Devo chiamare i miei amici! Gatto, boy, Bing, Dottie, venite! Splash? Cosa ci fai con questi criceti? Ciao, Splash! Ma io adoro i criceti! Ciao, piccolino! Oh, ma come sono simpatici! Sì, ma ragazzi, penso proprio vogliono partecipare ad una gara! Ecco, esattamente, avevo ragione! Quindi immagino che ognuno di noi dovrà scegliere un suo cricetino e gareggiare con lui! Oh, che bello, io ci sto! Anch'io, mi sembra divertentissimo! Oh, io vorrei tanto questo qui arancione! Ma certo! Beh, ragazzi, se non vi dispiace, io vorrei il cricetino azzurro! Oh, come sei carino! Oh, io quello rosa! E allora io avrò lui, questo verde! È bellissimo! Oh, ma si sono posizionati sul percorso! Ragazzi, immagino bisognerà tirare un dado! Dottie, sei tu la prima! Perché il tuo si è posizionato proprio davanti a tutti! Oh, sei stato proprio bravo! Ecco il dado! Quattro! Può prendere il formaggio! A quanto pare questi cricetini amano il formaggio! Beh, tocca a me! Ecco il dado! Meno uno! Eh, quindi? Sto fermo! È peccato, Bing! Vediamo! Due! Uno, due! Anche lui può prendere il formaggio! Beh, ed ora tocca a me! Vediamo! Tre! Uno, due, tre! Quel simbolo, penso proprio, significa che devo girare lo spinner! Questo qui! Allora, giriamo! Quello significa che il mio criceto può avanzare di uno! Evviva! E quindi anche per lui formaggio! Yuppie! Si era sbagliato! Era andato in un'altra casella! Dottie, tocca a te! Subito! Allora, vediamo un po'! Uno! E quel simbolo che cosa vorrà dire? Secondo me significa che devi tirare nuovamente il dado! Oh, giusto! È vero! Sembra proprio l'immagine del dado! Due! Oh, puoi prendere un altro pezzo di formaggio! Oh, che carino me lo sta portando! Grazie! Te lo darò più tardi! Ehi, ma così il mio è l'unico ad essere rimasto senza formaggio! No! No, no, Bing! Guarda, qui ce n'è tanto altro! Ecco, Bing! Altro formaggio! Oh, evviva! Tocca a me! Vediamo! Tre! Uno, due, tre! Rilanciamo il dado! Meno uno? Oh! Yuppie! Oh, puoi prendere dell'altro formaggio! Forza! Tocca a me! Ora mi impegnerò tanto! Cricetto, devi avanzare anche tu! Uno! Oh! Uh! Ehi, ma posso tirare ancora il dado? Sì! Eh? Tre! Uno, due, tre! Woo! Finalmente! Anche per te del formaggio! Woo! Tocca a me! Allora! Uno! Woo! Tiriamo nuovamente il dado! Meno uno! Woo! 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 Beh, viva! Hai guadagnato un altro pezzetto di formaggio! Non è andata poi così male! Allora! Uno! Woo! Woo! E tiriamo nuovamente il dado! Due! Woo! Ok, devo andare allo spinner! E? Vediamo! Questo significa che possiamo prendere un pezzo di formaggio qui o da un altro giocatore! E io preferirei prenderlo da qui! Non voglio togliere nessun pezzetto di formaggio o nessun criceto! Oh, bravo Adotti! Beh, tocca a me! Quattro! Ok, devo tirare nuovamente il dado! Due! Uh! 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 Forza! Devi avanzare di uno! Yuppie! Beh, prendo io il formaggio! Tocca a me! Forza! Bisogna avanzare il più rapidamente possibile! Oh! Due! Mm! Woo! Allo spinner! Eh? Posso prendere del formaggio! Evviva! Yuppie! Beh, anch'io lo prendo da qui! Non voglio rubarlo agli altri! Tocca a me! Tre! Sì! Uno! Oh, posso prendere un pezzo di formaggio! Ecco qui! Tocca a me! 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 Oh! Yuppie! Oh, beh, il mio cricetino è contento perché ha vinto il formaggio! E allora prendiamolo! E allora prendiamolo! Ecco qui! Ehi, Dott! I nostri due sono in testa! Stiamo per vincere! Eh, non è detto, Gattaboy! Certo, bisogna arrivare tra i primi tre sulla rampa di lancio! Ma poi vincerà chi riuscirà chi riuscirà a rimanere all'interno di quel disco! Quindi non si può proprio sapere chi sarà il vincitore! Non ancora almeno! Beh, io ce la metto tutta! Quattro! Sì! Uno! Uh! 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 Ehi, il mio cricetino ha quasi preso il posto sul trampolino! Sì! Oh, spero di farcela da arrivare! Allora, vediamo un po'! Uno! No! È un numero basso! Rischiamo di non prendere il posto sul trampolino! Oh! Yuppie! Oh, lui è contento per il formaggio! I nostri cricetini si accontentano del formaggio! Forza, tiriamo il dado! Uno! No! Uh! Uh! Devo ritirare il dado! Allora! Tre! Sì! Uh! Uh! Yuppie! Ed ecco il pezzettino di formaggio! Tocca a me! Allora! Due! Sì! Uh! Allo spinner! Eh? Oh, devo avanzare di uno! Sì! Siamo quasi arrivati al trampolino! Yuppie! Forza! A noi manca pochissimo! Uno! Eh! Mi aspettavo un numero più alto! Ma sì! Ci siamo! Yuppie! Ed ora i posti liberi sono solo due! Oh no! Allora! Due! Wow! Oh no! Glice o meno vuol dire che gli viene tolto un pezzettino di formaggio! Mi dispiace togliergli un pezzetto di formaggio! Ma se è la regola è giusto rispettarla! Beh, tocca a me! Allora! Tre! Perfetto! Oh no! Voi siete quasi sul trampolino! Tocca a me! Allora! Due! Uh! Up! Up! Oh beh! Sono sullo stesso quadratino! Ehi! Direi di spostarti su quello avanti! Yuppie! Oh! Fantastico! Tu e Gattoboy siete già pronti a partire! Eh già! Quindi io salto il turno! Lascio a voi! Insomma! La possibilità di arrivare! Ma Splash è già lì praticamente! Allora! Tre! Sì! Posso tirare ancora il dado! Dai! Forse ce la facciamo! Oh! Due! No! Ecco! Mi sa tanto Splash che il posto è tuo! Beh Bing! Comunque dopo potrà sempre mangiare il suo formaggio! Dai! Non essere triste! Beh in effetti a loro importa solo del formaggio! Allora! Vediamo! Due! Beh vai sulla casella libera! Yuppie! Come sono carini! Ed ora bisogna azionare la bandierina! Oh! Sentiteli! Oh! No! Il mio è volato via! Oh! Forza! Forza! Gatto! Il tuo è davvero simpatico! Oh! No! Dotti è eliminata! Abbiamo un vincitore! Gatto! Boy! Yuppie! Oh! Ragazzi! Evviva! Ho vinto! Sì! Lì! Oltre al formaggio c'è qualcosa! Qualcosa per il vincitore! Oh! Ecco qui! Guardate che cosa c'era! Oh! Non ci posso credere! Ma questi sono i Lettra Animal! Quindi degli animali robot! Fantastico! Si trovano in edicolo! Sono di Chicka Boom! E costano 3,99 euro l'uno! Flash è fantastico questo premio! Vabbè non ringraziare me! Ringraziamo questi cricettini! Yuhu! Yuppie! Oh! Grazie cricettini! E allora apriamoli! Che bello! Ne ho 3 da aprire! Vediamo! Questa è l'H! E si tratta di Hercules! Un orangotango! Questa è la card con cui giocare! Oh! Questa è la checklist! Ci dice che in tutto ci sono 26 robot! E qui ci spiegano appunto come va montato! È davvero molto utile la spiegazione! E allora seguendo le istruzioni cerchiamo di formare l'orangotango Hercules! Ed ecco l'H di Hercules! Beh apro l'altra! Andiamo! Oh! Questo è meraviglioso! È Golem! Un triceratopo! Vediamo le istruzioni per il montaggio! Quindi vediamo un po' bisogna fare così! Così la coda! Poi! Ecco ci ho messo un po' ma alla fine ce l'ho fatta! E devo dire che è meraviglioso! E poi l'ultima! Ecco l'ultima blind bag! Oh che peccato! Vediamo chi c'è! Oh! Icaro ed è un cervo ma è meraviglioso! Mi ci vuole un po' di tempo! Devo capire bene come fare! Allora dovrei metterlo così! Quindi questo su! Oh! Ed eccolo! Wow! Ma devo proprio dirlo! Chi li ha progettati deve essere un genio! Sono spettacolari! Beh voi vi siete divertiti? Io sì tantissimo! Ed è stato anche bello vedere aprire queste sorpresine! Anch'io mi sono divertito ed immagino anche i cricettini visto che stanno mangiando il loro formaggio! Yuppie! È vero è stato molto divertente! E allora grazie per aver giocato con noi! Lasciate un pollice in su Iscrivetevi al canale E cliccate qui per vedere tanti altri giochi Con tutti i personaggi dei vostri cartoni preferiti Noi ci vediamo al prossimo video! Ciao! Ciao!